Buonasera a tutti. Questa sera trattiamo un argomento di cui in parte abbiamo parlato anche in altre circostanze, come per esempio quando molti di voi sono venuti qui a Roma a vedere il Museo Nazionale delle Terme di Diogreziano, dove abbiamo visto alcuni oggetti relativi appunto all'argomento di cui parliamo questa sera, oppure chi di voi è venuto a fare l'itinerario che facevamo ai castelli romani. Parliamo cioè delle navi di Nemi, una delle vicende più articulate, controverse, discorse dell'archeologia italiana. Una vicenda straordinaria che rappresenta veramente un orgoglio dell'archeologia italiana e anche della tecnologia italiana per quello che concerne la loro scoperta, ma poi in seguito diciamo una pagina vergognosa su quelle che sono le vicende dell'aspetto conservativo e della gestione dei nostri beni culturali. Quindi arriveremo a parlare appunto di questo argomento. Vado subito ad iniziare perché si tratta comunque di un tema abbastanza complesso. Voi sapete che uno dei luoghi più importanti dal punto di vista archeologico, storico, nel dintorno di Roma è l'area dei castelli romani. I castelli romani rappresentano, sapete, l'area alta del complesso del vulcano laziale. Il vulcano laziale è quel complesso vulcanico che ha plasmato il suolo dell'area del Lazio a partire grossomodo da mezzo milione di anni fa fino all'incirca a 200.000 anni fa. Questi sono gli ambiti cronologici di attività del vulcano laziale. Diciamo che probabilmente il vulcano era attivo prima ancora che comparisse l'uomo nell'area del Lazio. D'accordo? Quindi l'uomo arriva che si trova già più o meno la situazione che conosciamo noi oggi. Il vulcano laziale, sapete, ha avuto un'attività quindi abbastanza lunga. Oggi è un vulcano che non ha attività eruttiva o effusiva almeno di 200.000 anni, seppur geologicamente è un vulcano ancora attivo. E considerate che l'aspetto più interessante sono due caldere, le due caldere cioè sono due sprofondamenti di quello che era il cono vulcanico che hanno dato origine a due bacini che sono diventati due laghi. In realtà oggi ne rimangono solamente due appunto di questi laghi, cioè il lago Albano, chiamato anche il lago di Cassel Gandolfo, che è quello che in questa foto vedete più in alto qui, e il lago Aricino, che è chiamato anche il lago di Nemi e che è quello che vedete un pochino più in basso, cioè questo che vedete qui sotto. In realtà considerate che ancora in epoca arcaica, cioè nel VI secolo a.C., i laghi erano però di più. È vero che i laghi grandi erano sempre stati questi due, ma c'era parte di un altro lago, in questa conca che sto indicando adesso, vedete, cioè esattamente sotto la città di Genzano, appunto questo spazio che vedete qui, che si chiama la cosiddetta Valle Regia, un altro lago si trovava, dove sto indicando ora, guardate, vedete, rimane un po' l'invaso, la forma, così, e un altro lago era invece qui dietro all'estrema, veramente sinistra, all'estrema destra, scusate, della fotografia. Tra l'altro questo lago, sto indicando adesso, che è un lago che non esiste più, era un lago famoso anche in ambito storico, perché era il famoso lago Regillo, dove ci sarebbe stata la famosa battaglia tra Roma e la Lega Latina, nel 499 a.C. Tuttavia, i due laghi principali, sono appunto il lago Albano e il lago Recino, cioè il cosiddetto lago di Nemi, sono tutt'ora gli elementi che caratterizzano maggiormente il panorama, veramente dico, gli Albani. E erano due luoghi estremamente importanti, ameni, gli antichi attribuivano dei miti specifici a questi laghi, soprattutto al lago Recino, cioè al lago di Nemi, che è quello un po' più piccolo, che vedete più a sud, quindi nella fotografia è riportato più in basso. Questo lago, infatti, era un'area sacra, era considerato totem nell'antichità, addirittura un'area, uno spazio talmente sacro che non poteva essere profanato. E all'interno di questo lago c'era un antichissimo santuario, un antichissimo tempio. Ecco, questa è una foto appunto del lago Recino, cioè del lago di Nemi. Questo piccolo insediamento che vedo in alto, qui nella foto, in mezzo, è proprio la cittadina di Nemi, che si affaccia sul lago, ma non è collegata al lago, perché Nemi è in alto. Quindi c'è un percorso pedonale che da Nemi scende al lago, però, diciamo, non è facilmente legato, nonostante il lago si chiama appunto il lago di Nemi. E' come ripeto, è un lago vulcanico, è una caldera, cioè lo sprofondamento appunto di un cono vulcanico che è imploso, se vogliamo. Ecco, questo lago, vedete, proprio il fatto che era isolato, che era chiuso, vi dicevo che era considerato tabù, quindi era ritenuto un luogo sacro, riservato al culto di diverse divinità locali. Le divinità locali più importanti che si riteneva fossero, vivessero nello spazio del lago, era la dea Egeria, che era una ninfa e che a lei era legato appunto anche l'acqua, le sorgenti che hanno alimentato il lago, e il dio Virbio. Virbio è una divinità vegetale, di cui però non si sa praticamente nulla, è una di queste divinità antichissime, di cui anche i romani si avevano molto poco. Si sa solo che era un dio in realtà quasi di queste divinità che muoiono e giorgono, di queste divinità che fanno morte cruenta e poi indicano appunto la rinascita della natura e così via. Al culto di Egeria e di Virbio si è aggiunto poi un altro culto, sempre in epoca antichissima, protostoria, che è il culto della cosiddetta Diana Taurica. Chi era Diana Taurica? Anche di lei non sappiamo molto, perché queste divinità così antiche sono divinità che in epoca storica e classica avevano assai poco venerate, poco, diciamo, se ne parla poco. Sappiamo di questa Diana Taurica che era una Diana Tricipite, cioè era fatta da tre forme, tre figure, come vedete in questa statua a sinistra o sul recto di questa moneta di destra. Era una divinità o con tre teste o con tre forme, era una sorta di trinità se vogliamo. Era chiamata appunto Diana Taurica perché si diceva che era originaria del Tauro, quindi dell'Asia minore. Quasi sicuramente non è altro che una di queste famose grandi madri mediterranee che poi rimanevano localmente come residuo di questo matriarcato antico di cui abbiamo parlato tantissime volte ormai e che appunto indicava l'antichità, quasi l'aspetto primitivo di questa religiosità che caratterizzava la penisola italiana. Ecco, questa Diana Taurica c'è una leggenda che diceva che in realtà il culto di Diana Taurica è stato portato niente meno che da Oreste. Oreste era il figlio di Agamennone che dopo aver insieme a sua sorella Elettra ucciso sua madre Clitennestra per vendicare la morte di suo padre Agamennone, decide di scappare perché è perseguitato dalle irinni, cioè dalle dèe che punivano chi aveva ucciso un genitore e fuggendo scappa con il suo amico Pilade, scappa lontanissimo da Micene che è la città originale di Agamennone e di Oreste e fugge addirittura sul Monte Tauro, quindi nella Turchia sud orientale. Sul Monte Tauro scopre in realtà ospite di un re che si chiama Tovante e scopre che nel regno di questo sovrano come sacerdotessa si trova niente meno che sua sorella Ifigenia che tutti credevano morta durante il sacrificio fatto da Agamennone, quindi arrivare a Troia ma che invece stava lì ancora viva. E l'Ifigenia è rientrata sacerdotessa di questa Diana Taurica che era una dea sanguinaria se vogliamo perché ricordate che queste grandi madri spesso hanno caratteristiche positive matronali, materne, ma anche caratteristiche spesso naturali e quindi feroci se vogliamo. Lì in realtà Oreste prende sua sorella e scappa via con lei portando l'idolo di questa Diana Taurica e dove fuggono? Nel posto per eccellenza dove tutti quanti si andavano a nascondere. Il nascondiglio appunto più famoso nella mitologia antica questo nascondiglio era appunto il Lazio che secondo i romani si chiamava Lazio dall'ateo quindi appunto nascondo perché era un luogo dove tutti quanti si venivano a nascondere. Oreste e Ifigenia fuggendo lì in questa conca del lago fondero lì questo santuario dedicato appunto a Diana Diana Tricipite Diana Tauria se vogliamo e lì questo culto ha dato origine a un santuario un tempio un tempio antichissimo era considerato uno dei tempi più antichi del Lazio un tempio di cui sono stati fatti alcuni scavi e di cui è stato trattato il basamento di cui vedete la ricostruzione a destra anche se poco conservato e si è ipotizzato che la forma fosse più o meno quella che vedete nel disegnino che è riportato a sinistra cioè un grande cortile con un portico intorno e poi un tempio nel mezzo ma addirittura un piccolo teatro dove svolgere rituali e così via in realtà di questo tempio è stato fatto uno scavo solamente nella metà del 1800 e purtroppo le cose trovate sono state portate in Danimarca perché nel 1800 ancora lo scavo è stato condotto potremmo dire privatamente se vogliamo e gli oggetti trovati con sculture ex vuoti marmi eccetera si trovano oggi al museo di Copenhagen andando lì qualcosina si vede ecco soprattutto vedete si vede quest'angolo del portico dove da quello che si vede si capisce che questo qui non è il tempio quello fondato certamente da Ifigenia e da Oreste ma è una ricostruzione dell'epoca repubblicana cioè una ricostruzione praticamente del secondo secolo avanti Cristo quindi è il tempio quello più antico quello mitologico in realtà non rimane nulla sappiamo però che questo tempio era dei romani considerato uno dei luoghi più sacri di tutta quanto il Mediterraneo c'erano dei rituali misteriosi poi non è questa la sedia per parlarne ma addirittura c'erano delle vicende interessantissime stranissime e peculiari legate a questo tempio tipo che il suo sacerdote il suo gran sacerdote che ci viveva era chiamato re ed era considerato re rexene morensis sarà così per tutta la storia di Roma questo rexene morensis doveva essere sempre uno schiavo fuggiasco e che si diventava rexene morensis assassinando ammazzando il rexene morensis precedente questo è durato per tutta la storia di Roma quindi sono specie molto interessanti molto oscure e particolari il fatto sta quindi che questo santuaggio era importantissimo e antichissimo e era un santuario oracolare cioè un santuario che serviva in realtà aveva anche la possibilità di far prevedere il futuro questi sacerdoti venivano interpellati da Roma e dalle altre città latine per esprimere appunto il conoscere il volere delle divinità e in relazione diciamo a questo a questo il tempio c'era anche la lettura tra virgolette del lago perché? perché il tempio sorgeva esattamente sulle rive del lago d'accordo? ora guardate questo è un schema un disegno che ho fatto io dove siete guardate la sezione di questo settore con gli albani e qui all'estremo vedete di destra è rappresentato questa figurina che rappresenta appunto il tempio che stava appunto sulle rive del lago proprio sulla spiaggia ora considerate una cosa però che il lago di Nemi come del resto il lago albano che gli è vicino la sua acqua è legata a delle sorgenti sono sorgenti sotterranei che viene chiamato un lago endoreico endoreico vuol dire che è un lago in cui non c'è un fiume che porta l'acqua è un lago che si alimenta per sorgenti sotterranei o per l'acqua albiovana ora per questa ragione la portata dell'acqua quindi il livello dell'acqua è un livello che può essere sottoposto anche a grandi variazioni per cui nonostante fosse un tempio così importante poteva accadere che a volte l'acqua del lago lo allagasse ora Tito Livio dice che in epoca repubblicana non sappiamo di preciso quando ma probabilmente nel VI secolo avanti Cristo quindi all'inizio dell'epoca repubblicana i romani interpretando i libri sibillini che erano dei testi oracolari capirono che era importantissimo per ragioni di tabù e di totem livellare regolamentare l'acqua appunto del lago sia del lago Albano che del lago di Nemi allora per questa ragione cosa fecero? Crearono un cosiddetto emissario cioè scavarono se guardate sulla montagna di sinistra quindi su quella che è rivolta verso Roma meglio verso la campagna romana scavarono scavarono un condotto sotraneo scavato direttamente nella roccia per una lunghezza di più di 1600 metri scavato direttamente appunto nella roccia di Tufo per abbassare il livello dell'acqua vedete infatti guardate contemporaneamente lo scavo vedete che l'acqua si abbassa e fare in modo che il tempio non venisse in questo modo mai allagandosi perché c'era appunto ogni volta che l'acqua del lago si gonfiava come fosse un sistema di troppo pieno entrava in questo condotto e appunto attraversato le montagne veniva poi scaricato nella campagna romana nell'area della campagna romana questo diciamo questo emissario ha funzionato per tutta l'antichità è chiaro e era un sistema di livellamento appunto del lago i romani fecero questa cosa per molti laghi lo fecero per il lago Albano per il lago di Nemi lo fecero per il lago Fucino anche proprio perché era un modo di regolamentazione delle rive che spesso erano occupate da templi e così via in realtà considerate che questo tempio ha continuato a funzionare come ripeto per tutta l'epoca romana però soprattutto in epoca imperiale più che essere un santuario frequentato dalla gente eccetera è diventato un segno diciamo storico è diventato un monumento di carattere celebrativo ed è stato racchiuso all'interno dei complessi palatini imperiali come se diciamo gli imperatori avessero un grande parco dentro cui rientrava anche il lago con diversi padiglioni c'erano in fei ville sale da banchetto eccetera tutti affacciati lungo il lago e tra questi rientrava anche appunto il complesso del tempio del tempio stesso ora noi non conosciamo le vicende successive a questo tempio fino a quando è stato utilizzato fino a quando è durato perché come ripeto schiavi archeologici seri praticamente non sono mai stati fatti ma il ricordo di questo tempio è durato per tutta la storia di Roma e considerate che poi essendo tutto sommato un luogo vicino alla città l'area dei Gogli Albani dei Castelli Romani è sempre stata frequentata da viaggiatori da personaggi da politici da principi da papi e così via e il lago è sempre stato un luogo di grande bellezza di porto e ha un po' catalizzato l'interesse anche durante i secoli del medioevo ebbene tra l'altro pensate che proprio i laghi dei Gogli Albani sia il lago Albano che il lago di Nemi sono due laghi che sono sono estremamente pescosi cioè sono luoghi in cui c'era una certa fama gastronomica di questi pesci quindi era una zona pescosa e già nel medioevo si aveva notizia che quando nel lago di Nemi i pescatori tiravano le reti a volte nell'interno delle reti trovavano degli oggetti certamente nel medioevo a quei soggetti trovati nella rete davano significati diversi a volte significati magici o significati diciamo anche lì di porta sfortuna quindi gli davano un po' certamente il medioevo interpretava a modo suo quello che veniva trovato ma di fatto le persone più intellettuali avevano capito che evidentemente nell'acqua del lago c'era qualcosa qualcosa che doveva essere relativo all'antichità probabilmente c'erano delle navi c'erano delle barche tanto che l'idea di queste navi che devono caratterizzare il fondale del lago di Nemi è diffusa già come diceria nel medioevo noi abbiamo diverse notizie che sono pervenute attraverso dicerie locali trasmesse in poesie in scritti che già nel 1300 parlavano di queste navi che stavano lì sotto la cosa in realtà è legata a questo fascino misterioso di questa divinità pagana di cui ancora si parlava nel medioevo perché come ripeto questa diana taurica era una figura veramente misteriosa salvifica ma anche stregonesca se vogliamo fa sì che quindi nasce la curiosità di trovare queste navi che stavano in fondo al lago e di cui ogni tanto vengono tirate fucco su con le reti pezzi di fasciame oggetti di metallo e così via il fatto sa che questo che vedete qui intanto vedete è una foto del cunicolo cioè dell'emissario ovvero di questo canale lungo 1635 metri che attraversa la montagna da parte a parte vedete che qui c'è un tubo tra l'altro sotto di cui parleremo dopo di questo tubo di ferro che sta dentro appunto questo tunnel lungo 1600 metri ecco vi dicevo nel 1446 Prospero Colonna che era il signore del luogo era la famiglia Colonna era una delle famiglie che governavano l'area dei Pogli Albani sia nel Tardo Medioevo che nel Rinascimento Prospero Colonna che era appunto signore di Genzano e di Nemi si mette in testa di recuperare queste navi tra l'altro siamo nella metà del 400 quindi comincia ad esserci un interesse antiquario per quello che era in realtà questi soggetti antichi che poi pensavano che su questi navi ci fossero tesori e così via e allora cosa fa sapendo che a Roma si trova Leon Battista Alberti di cui vedete il ritratto a destra e che Leon Battista Alberti non era solamente un architetto ma era anche un ingegnere un inventore un costruttore perché Leon Battista Alberti si trovava a Roma perché stava lavorando per Papa Niccolò V a cui stava di cui stava curando un progetto per la ricostruzione della Basilica di San Pietro San Pietro poi verrà ricostruita dal 1503 da Donato Bramante ma già nella metà del 400 ci sono stati fatti vari progetti tra cui c'era un progetto in fieri che era appunto di Leon Battista Alberti bene il principe Prospero Colonna chiede a Leon Battista Alberti di organizzare di progettare qualcosa per recuperare questa famosa nave queste navi o questa nave non si esibiva quante erano perché in vari punti del lago vennero tirati su questi oggetti e Leon Battista Alberti fa una serie di disegni che prevedono delle chiatte galleggianti con dei paranchi come il disegno che appunto vedete a sinistra per il sollevamento di questi materiali diciamo l'innalzamento di questi oggetti che sono in fondo usando sempre però delle reti da pesca considerate che la cosa in realtà appare difficile allora pensate che Prospero Colonna fa venire noi questa cosa la conosciamo molto bene perché c'è uno un umanista che si trova in un momento a Roma di Forlì che si chiamava Flavio Biondo che saputo di questo interesse di questa impresa decide di informarsi perché vuole assolutamente assistere al ritrovamento al recupero dal fondo dell'acqua di questi navi e Flavio Biondo dice che Lombattista Alberti pensò di calare queste reti da queste chiatte imbrigliare questa nave che loro immaginavano forse una nave intatta che stava lì sotto e per farlo fece venire addirittura a Roma e poi a Nemi ben venti marangoni che sono i marangoni? I marangoni erano del personale diciamo del porto di Genova oggi diremmo una specie di sommozzatori cioè delle persone che in apnea nel porto di Genova agivano per riparazioni eccetera in apnea sott'acqua negli scafi delle navi genovesi che si trovavano attaccate al porto questi marangoni in realtà dovevano venire qui scendere in acqua imbrigliare con queste reti questa nave e poi sollevarla in realtà nonostante questa grande operazione siamo appunto nel 1446 l'impresa risulta poi estremamente difficile perché in realtà l'acqua del lago di Nemi come del resto anche l'acqua di molti laghi ma in particolar modo di questi laghi sono qui nel Lazio è molto limacciosa quindi non è trasparente pertanto questi marangoni fecero queste immersioni ma non riuscirono a vedere diciamo in modo efficace questi resti per cui l'impresa alla fine è naufragata e Flavio Biondo è arrabbiatissimo e dice mamma mia sarebbe stato bellissimo trovarci di fronte a queste grandi navi degli antichi riportate alla luce del sole poi siamo ancora nel 1400 pensate addirittura addirittura viene interessato Leonardo da Vinci a questa impresa ma non sappiamo se Leonardo abbia o no poi diciamo varato un suo progetto sappiamo solo che venne contattato ma comunque non se ne fece niente quasi cent'anni dopo nel 1535 il Alessandro De Medici cardinale a Roma decide di provare anche lui questa operazione allora contatta Francesco De Marchi che era un ingegnere militare che lavorava per i medici a Firenze e che aveva avuto l'idea di sperimentare per dei lavori di restauro da fare sull'Arno una campana batiscopica che era stata progettata in quel periodo da un ingegnere francese che si chiamava Guglielmo di Lorena questa campana batiscopica fatta come fosse il corpo di una di una botte di legno era fatta come nel disegno che vede lì viene accalata con dei pesi nell'acqua e poi una persona un uomo con un casco in testa doveva poteva camminare sul fondo dell'acqua e andare a toccare a prendere questi oggetti in modo diciamo normale come se fosse in superficie chiaramente questo progetto non tiene conto di tutta una serie di situazioni cioè della visibilità nel fondo del lago non tiene conto dei sistemi di respirazione non tiene conto in realtà di diciamo di tutta una serie di realtà che sono particolari quindi la cosa si risultò difficilissima ma nonostante questo pensate Francesco De Marchi nel 1535 non solo riuscì a far andare tre persone sulla nave a farla toccare ma addirittura a farla misurare pensate venne fatta la misurazione si fece il disegno si sono le misure di questa nave che risultò gigantesca risultò pensate lunga 70 metri e addirittura si vennero recuperate in quelle circostanze ravanando lì sul ponte di questa nave vennero portate in superficie dei vesti di legno dei vesti del fasciame e vennero addirittura ritrovate delle monete monete di bronzo dell'imperatore Tiberio dal che si cominciò a dire la nave o le navi che stanno qui sotto sono le navi dell'imperatore Tiberio d'accordo e è mantenuta è rimasta questo concetto questa idea delle navi di Tiberio nel 1800 nella metà del 1800 Annesio Fusconi un altro ingegnere che lavorava per Papa Gregorio XVI Cappellari siamo nel 1840 circa fa e fare delle ulteriori immersioni con un'altra campana batiscopica tipo questa ma più perfezionata e riesce a recuperare tantissimo legname che viene portato in superficie ovviamente sfasciando ahimè la nave e considerate che questo legname ebbe un eco enorme diciamo del 1800 e fece la fortuna di questo Annesio Fusconi che pensate ebbe l'idea di usare questo legname che si diceva legname delle navi romane di Tiberio di Nemi per intagliare delle tabacchiere e queste tabacchiere fatte di legno romano diventero uno dei regali più preziosi che il Papa faceva quando si otteneva l'incontro con dei capi di Stato con delle figure diciamo di particolare pregio e prestigio se vogliamo a carattere pulizia considerate che la profondità in cui si trovava questa nave era grosso modo tra i 5 e i 7 metri perché ovviamente il fondo è un fondo in discesa quindi questa nave era sdraiata così nella parte più profonda era circa 7 metri la parte più profonda era 5 metri questo era l'elemento appunto della profondità e considerate recuperò appunto questo materiale ma non si riusciva a fare molto molto di più tra l'altro queste famose navi diventano importantissime se ne parlava continuamente in tutti i salotti dell'Europa si voleva appunto di queste navi era un po' un'impresa archeologica incredibile tra l'altro era il primo tentativo di fare veramente uno studio di qualcosa che era sott'acqua c'è anche quella famosa canzone quella famosa canzone popolare romana che è proprio della metà dell'Ottocento la gita dei castelli quella che dice lo vedi ecco marino quella lì che a un certo punto dice è di fragole un profumo solo a nemi puoi sentì sotto quel lago un mistero ci sta di Tiberio le navi dell'antica civiltà e quindi tanto a fare che vede anche le canzoni popolari parlavano di questa di questa cosa misteriosa che si trovava sotto l'acqua quando arriviamo intanto nella fine del 1800 nel 1895 il principe Orsini che era comunque uno dei massimi proprietari terrieri ormai già c'era l'unità d'Italia siamo nell'ambito dell'Italia post-unitaria ma ancora non c'è proprio una grande istituzionalizzazione dell'archeologia vi dicevo quindi ancora una cosa di privati il principe Orsini nel 1895 decide di finanziare una spedizione per questo che cosa fa? Contatta un ingegnere Eliseo Borghi il quale un ingegnere navale decide per la prima volta di usare la nuova tecnologia e quindi di usare un palombaro ecco quindi viene inviato un palombaro da Genova e questo palombaro fa un'immersione appunto nel lago Denon questo che vede qui appunto è una pagina di un giornale dell'epoca dove si vede questo palombaro vedete che con una specie di pala sott'acqua arriva a diciamo muovere a girare sulla nave camminando sul ponte e asportando tutto ciò che può ebbene l'impresa di Eliseo Borghi è sicuramente l'impresa che ci ha dato maggior conoscenza di queste navi perché per la prima volta o dopo a 178 semplicemente questo disegno fatto ancora nel 500 si arrivò invece a definire veramente la forma della nave e a capire che c'era appunto una nave almeno quello era diciamo il punto in cui scese in quel momento il palombaro e questa nave era una nave molto grande che quello che era rimasto era solamente parte del fasciame molto largo e si capiva che più che una nave come si erano immaginati loro era una grande chiatta una larga chiatta che però era sopra arredata cioè non era una nave con le vele con gli alberi così era uno scafo molto ampio dove sopra c'era un edificio quindi si è capito che in realtà forse si è detto era un tempio galleggiante cioè che il tempio di Diana che stava sulla riva del lago aveva dei padiglioni galleggianti cioè degli elementi che forse erano comunque anche loro connessi con il tempio e che questo tempio sopra era decorato da mosaici da statue e così via su questa chiatta e proprio l'ingegner Borghi face recuperare moltissimi oggetti che vennero portati e presentati poi con gran pompa nell'accademia di San Luca a Roma e vedete che diciamo questi oggetti straordinari e fecero capire che cosa c'era lì sotto venne fatta una foto siamo alla fine del 1800 quindi c'è già la possibilità di fare questa fotografia e questa è la foto in questione si vede guardate queste la foto guardate in superficie questo palombaro ci sono tantissimi chiodi ci sono parti di fasciame di legno parti di fasciame di metallo tegole addirittura perché c'era un edificio costruito con le tegole sulla nave e vedete tutta una serie di elementi di bronzo fatti da anelli da teste di leone teste di medusa e anche parti di mosaico un mosaico fatto in marmo quindi si capisce che c'era proprio un edificio costruito su questa nave e ha fatto capire che cosa incredibile dove essere fatto dove essere appunto questa struttura e tutti questi oggetti vendono poi comprati dallo saggio italiano e vendono esposti all'interno del museo delle termi di Dio Graziano il costituendo museo nazionale romano e molti di quei soggetti si trovano ancora lì cioè sono gli oggetti appunto recuperati da questo palombaro nel 1895 e oggi come ripeto sono esposti molti nel museo nazionale romano soprattutto i bronzi guardate in questa foto questo mosaico che vedete qui davanti in primo piano questo mosaico ricordate perché poi ne parleremo di questo mosaico che vedete qui ora gli oggetti in bronzo trovati sulla nave eccoli qua queste sono vedete le bitte cioè i sistemi dove le corde tenevano la nave ancorata sulle sponde perché la nave stava nell'acqua del lago però ovviamente era legata con queste corde alla sponda del lago il lago di Nemri non è poi così piccolo considerate che è un lago considerevole diciamo che da parte a parte ha una lunghezza che si aggira intorno il lato più più lungo del lago sono all'incirca 750 800 metri il lato più stretto la larghezza del lago sono circa 400 metri quindi non è un lago piccolissimo d'accordo e la nave appunto è circa 70 metri quindi era una chiatta molto grande attraccata appunto qui nell'area del lago e queste sono fatte in bronzo sono delle teste di lupo di leone di pantera ecco anche di qua guardate tutte fatte in bronzo con delle agemine questa pantera per fare la maculatura è fatta con delle lamine di rame come vedete qui e questi grandi annelli di bronzo e l'adattazione è il primo secolo dopo Cristo inizi del primo secolo dopo Cristo addirittura una di queste navi arriva sul davanti come sorta di polena ma come ripeto non si può parlare di polena perché non sono delle navi da mare destinate a a navigare sono delle chiatte se vogliamo su queste strade circolano c'era una grande testa di bronzo che rappresenta una medusa bellissima guardate grande così e all'incirca e anche lei per fortuna si trova appunto conservata nel museo nazionale romano tutto questo è appunto recuperato da questo famoso volombaro le navi aveva poi una recinzione diciamo una sorta di balaustra intorno questa balaustra fatta anche lei in bronzo dove le colonnine della balaustra sono delle erme sono fatte anche loro in bronzo guardate con queste teste bifronti di satiri menadi e sileni questa è una vista davanti altra vista di profilo sono appunto le colonnine di questa balaustra che circondava la parte del sul bordo se vogliamo di questa di questa nave ora la nave aveva poi dei timoni che in realtà servono più che altro per assestare la nave e questi timoni uno da un lato e uno dall'altro lato avevano due bracci di legno fatti da tronchi d'albero molto lunghi e sulla testata di questi bracci c'erano delle braccia umane in bronzo infilate e quindi bellissime sono assolutamente sono i cappucci diciamo di questi due bracci sporgenti e sono molto grandi queste diciamo queste braccia umane che vedi qui erano in realtà di gran lunga superiori al al naturale queste sono braccia questa ognuna di queste mani non è grande come una nostra mano ma è molto grande quindi sono delle figure veramente colossali ed era di farci capire la decorazione che queste imbarcazioni avevano ovviamente il ritrovamento di questi materiali non fanno altro che aumentare ancora di più la fama e la bellezza e il diciamo il desiderio di recuperare queste imbarcazioni ma ancora certamente si capisce che le operazioni sono difficili da fare ecco questo che vedete qui è il mosaico vi ricordate che vi sono quella fotografia che stava lì davanti ecco è un mosaico molto importante e di cui si è parlato tre mesi fa eccolo qui perché perché questo mosaico che lì era visto nella fotografia era andato perduto cioè nella fotografia compariva ma nessuno sapeva questo mosaico e finiva fatto cioè un mosaico di cui non si aveva più notizie due mesi fa che cosa è accaduto che i carabinieri del nucleo tutelare patrimonio artistico hanno intercettato una serie loro stanno sempre un po' alla ricerca su siti su cataloghi d'asta eccetera hanno intercettato una proposta di vendita a New York di questo mosaico che vedete qui che si è capito è il mosaico che appunto era stato trovato su una nave di nemi e attraverso un accordo fatto a livello internazionale eccetera questo mosaico è tornato in Italia pensate che non si sa attraverso con precisione attraverso quale vicende dalla metà degli anni 50 era diventato il tavolino da salotto di una ricca signora italo-americana che vive a Manhattan e a un certo punto gli eredi di questa signora avevano deciso di vendere questo mosaico che non sapevano era un mosaico delle navi romali di nevi mentre lei si a quanto pare perché poi si è in parte ricostruito pare che lei fosse la figlia di un antiquario che era amico di uno che c'è una serie di vicende ancora da chiarire in fondo è una cosa di due mesi fa scusate infatti tu sa che con una grande pompa e una diciamo cosa che ha avuto una notizia molto importante qui da noi nel Lazio questo mosaico è tornato a Roma e circa tre settimane fa definitivamente è stato riportato al museo di Nemi dove attualmente è esposto al pubblico è tornato appunto uno di questi oggetti importantissimi delle navi romane ma vedete tutto marmo è porfido serpentino è una tarsia straordinaria questo ci fa capire un po' anche la bellezza degli arredi di queste imbarcazioni di queste navi appunto che erano lì a Nemi tra l'altro sempre questo famoso palombaro ha ritrovato questa tubatura una tubatura di piombo dove sopra compare il nome vedete Gaio Cesare Augusto Germanico cioè il nome dell'imperatore Caligola questo per noi è molto importante perché si era sempre pensato che queste navi lì sotto fossero dell'epoca di Tiberio sulla base di queste monete le trovate in realtà questo tubo dimostra che il vero fautore di questa imbarcazione che poi si scoprirà essere due imbarcazioni è in realtà l'imperatore Caligola tra l'altro pare che proprio l'imperatore Caligola avesse un'enorme villa sul lago di Nemi e che lui stesso avesse trasformato questo tempio in un grande padiglione da villa che queste due navi messe sopra erano dei padiglioni da festa padiglioni utilizzati per cerimonie religiose ma anche per grandi banchetti imperiali galleggianti appunto sulle acque del lago Nemorense tra l'altro considerate che tre anni fa sempre i carabinieri hanno recuperato un'enorme statua di marmo che è questa che vedete nella foto di sinistra di destra scusate che è proprio dell'imperatore Caligola l'hanno trovata proprio lì a Nemi dove il proprietario di un terreno stava cercando di venderla clandestinamente sul mercato antiquario quindi ulteriori conferme che lì c'era veramente questa grande villa dell'imperatore Caligola la testa che vedete a sinistra non è pertinente ve l'ho messa solo per farvi dare appunto l'immagine di questo imperatore che quindi era stato il fautore di queste navi insomma dopo secoli di fama di mistero di diciamo di dubbi di leggende di tentativi andati più o meno a vuoto si era arrivati veramente a capire che cos'erano queste navi cosa ci si doveva aspettare che cosa costituivano come erano articolate che cosa nascondevano d'accordo e si stava veramente a creando il presupposto per una impresa spettacolare un'impresa straordinaria arriviamo ai primi del novecento il ministro Guido Baccelli uno dei primi io oserei dire grandi ministri dell'Italia e postunitaria un personaggio che pensate addirittura era un medico ma che aveva un ideale veramente molto molto alto della cultura Guido Baccelli all'epoca era ministro dell'educazione pubblica e ai primi del novecento non esisteva il ministero dei beni culturali c'era un ministero che è il ministero dell'educazione pubblica che praticamente riuniva oggi quelli che sono la pubblica istruzione nella ricerca scientifica e i beni culturali bene Guido Baccelli decide di avviare dei lavori per un possibile recupero di queste navi e fa contattare un ingegnere l'ingegnere Morin è un ammiraglio l'ammiraglio Morin che è un ammiraglio che era specializzato dirigeva un intero reparto connesso con i recuperi sottomarini per valutare quello che poteva essere un innalzamento appunto di queste di queste navi vengono mandati dei sommozzatori che valutano quello che è le condizioni delle navi ma purtroppo il risultato è che le navi sono talmente diciamo innestate nel fango del fondo del lago che nessun sistema che era stato previsto con dei palloni con delle gru dei paranchi purtroppo avrebbe potuto portare a sollevare queste navi in superficie le navi non risultavano potremmo la nave anzi in quel momento ma proprio in questo momento proprio nel 1903 l'indagine fatta da questi sommozzatori rivela che le navi sono due e che si trovano per l'altro molto vicine una all'altra ma a distanze diciamo a profondità molto diverse infatti se fino a questo momento si era stata individuata una nave lunga circa 71 metri a una profondità tra i 5 e i 7 metri a quanto pare c'era una seconda nave ancora più grande lunga 75 metri e in uno stato di conservazione che appariva migliore ad una profondità diciamo di circa tra i 19 e i 22 metri quindi ancora più in profondità del resto questo lago è un cratere vulcanico quindi un lago molto profondo a una profondità stimata tra i 90 e i 100 metri per quello che si è potuto in parte misurare quindi l'interno è fatto così quindi è chiaro che la nave è molto più in profondità e quindi era difficilissimo recuperarla ma ovviamente questo accende ancora di più l'interesse di quello che sono ovviamente gli diciamo gli archeologi gli studiosi ma la cosa appare veramente di difficile attuazione arriviamo nel 1927 è un momento particolare per l'Italia perché siamo diciamo durante siamo nella prima fase dell'ascesa del fascismo siamo in un momento dove il fascismo che di fatto ha preso il potere da cinque anni dal 1922 qui siamo nel 27 il fascismo è un movimento che sta godendo di un'enorme fortuna internazionale e siamo per dire un momento in cui l'Italia e il fascismo in particolare viene visto dalle altre nazioni d'Europa come una grande una nuova grande realtà politica che appare assolutamente illuminante nel panorama dell'Europa della grande depressione cioè del periodo degli anni 20 considerate che addirittura pensate siamo nel momento in cui Benito Mussolini è nominato più volte da uomo dell'anno per esempio dalle riviste politiche di economia americana cioè veramente il resto del mondo vede con grande ammirazione alla pollica del fascismo che tra l'altro sta creando delle situazioni economicamente affavorevole in un mondo che è pervaso come ripeto una grande crisi economica culturale sociale e così via e l'Italia in questo momento sta cavalcando questa fortuna questa gloria al punto che il fascismo si propone come grande diciamo propugnatore di ideali culturali e soprattutto cerca di fomentare enormemente la tecnologia italiana l'Italia era veramente potremmo dire in quel momento era all'avanguardia nella tecnologia la tecnica italiana la siderurgia la tecnologia la meccanica è veramente diciamo all'avanguardia in questo periodo l'Italia per esempio comincia a godere di diversi primati i primati di velocità sull'acqua i primati di velocità aerea sull'acqua gli idrovolanti i dirigibili è un momento in cui l'Italia è veramente avanti nella tecnica e l'industria italiana decide di farci una grande pubblicità e quale occasione migliore veramente di presentare investire fare un investimento enorme di gran lungo superiore a quello che erano le reali possibilità economiche che l'Italia il governo italiano poteva permettersi nell'ambito dei beni culturali ma che doveva valere come grande vetrina di propaganda politica per il fascismo ma anche di pubblicità per la tecnologia e l'industria italiana ecco allora che il ministro dell'educazione pubblica Corrado Ricci che vedete nell'immagine qui di sinistra crea una commissione una commissione che doveva avere l'intento appunto di valutare in che modo provvedere a portare in luce queste navi un po' tutto il mondo sentiva parlare di queste navi e quando siamo nell'ottobre del 1927 Corrado Ricci fece fare una conferenza internazionale una diciamo veramente una possiamo dire una conferenza stampa a cui si indirarono giornalisti veramente di tutto il mondo e presentò un progetto progetto che era stato portato avanti era stato proposto in realtà da un gruppo di ingegneri a capo del quale c'erano uno che si chiamava Guido Uccelli che vedete rappresentato a sinistra e l'altro invece un suo giovane collaboratore che si chiamava Giuseppe Moretti ora questi due ingegneri soprattutto Guido Uccelli era il ingegnere capo di una società che poi lui stesso avrebbe rilevato e che era la società Riva di Milano una società di pompe elettromeccaniche queste pompe diciamo il progetto quale era era quello di visto che appariva impossibile sollevare le navi dal fondo del lago poteva essere invece più interessante in fondo l'avevano già fatto i romani nel VI secolo a.C. quando avevano deciso di livellare l'acqua del lago svuotare il lago o quantomeno abbassare il livello dell'acqua del lago in modo tale che quelle navi che giacevano sul fondo si sarebbero trovate in realtà in superficie quindi si sarebbero potute scavare come fare un normale scavo archeologico sulla appunto sulla sulla riva il progetto nel termine ritorniamo a qui ecco qua il disegno vedete questo è bisognava riattivare il l'emissario romano che però ovviamente si trovava di sopra e quindi con delle elettropompe pompare l'acqua del lago utilizzare l'emissario romano con dei tubi vi ricordate quel tubo che vi ho fatto vedere dentro quello è l'unico che è rimasto ma c'era un fascio di tubi che passava e abbassare appunto l'acqua del lago il progetto venne presentato a Benito Mussolini che si diciamo si dimostrò entusiasta pensate che cosa avrebbe significato a livello dell'opinione pubblica internazionale far vedere che la tecnologia italiana era tale da poter prosciugare un lago per riportare in luce due navi di cui si parlava da 500 anni e che tutti quanti avevano pensato di portare in luce ma nessuno ci era riuscito quindi la cosa risulta assolutamente diciamo straordinaria e nella prima era del 1928 si cominciò allora che vennero mandati degli operai dentro il tunnel 1635 metri nella montagna per consolidare quello che era il tunnel scavato nel VI secolo avanti Cristo d'accordo? dopodiché riattivato questo tunnel questo emissario che sta ancora lì io l'ho percorso diverse volte è una cosa assolutamente che segna segna la vita se fogliamo entrare in questo tunnel lungo quasi due chilometri dentro la montagna che ti fa uscire solamente dall'altro lato senza finestre senza niente nell'oscurità assoluta ecco questi hanno consolidato questo tunnel appunto da parte a parte e cosa si vorrebbe quindi abbassare l'acqua dell'acqua con delle elettropompe e riportare in superficie una delle navi dopodiché dopo aver consolidato quella nave abbassare ancora il lue dell'acqua e riportare luce la seconda nave d'accordo questo è quello che viene previsto nel progetto dopo aver consolidato il diciamo l'emissario Guido Uccelli nell'autunno del 1928 fa piazzare appunto queste famose elettropompe della ditta Riva di cui appunto lui intanto era diventato un proprietario e considerate che su cui guardate si vede l'allestimento di queste elettropompe che vedete dovevano andare a pompare l'acqua dal lago con questi tubi entrare dentro appunto questo emissario e dopo circa due chilometri scaricare l'acqua del lago nella campagna romana il 20 ottobre del 1928 queste due elettropompe entrarono in funzione con una grande cerimonia e qui guardate si vede il montaggio appunto ulteriore di questi tubi dentro l'acqua del lago vedete che andavano ovviamente a pescare tra l'altro si cercò di far arrivare questi tubi non dalla riva perché ovviamente sulla riva l'acqua è più fangosa quindi la paura era che le pompe aspirassero fango e si tappassero d'accordo quindi questi due tubi arrivarono un po' verso l'interno dell'acqua del lago per prendere l'acqua compatibile un po' più pura per decantazione e vi dicevo il 20 ottobre del 1928 con questa grande cerimonia eccola qui c'è messa in funzione le pompe eccola qua guardate si vede questo gruppo di autorità tra cui si vede Benedito Mussolini in primo piano con il berretto in testa e le mani vedete poggiate appunto sulla rinchiera e si vedono questi tubi che dopo aver preso l'acqua e aver attraversato il canale questo è lo scarico che questi tubi queste elettropompe fanno in realtà oltre al di fuori dell'area del lago di Nemi nella zona della campagna romana dove venne creato un canale che arriva poi a riattivare parte del fiume Numico e quindi far sì che quest'acqua poi defluisse nel mar Tirreno tutto il mondo assisteva alla scena tra l'altro vendero giornalisti vendero studiosi a vedere l'avvio di questa operazione ci si rese però chiaro subito conto che sì era un'impresa mai tentata e si trattava certamente di elettropompe molto potenti ma siamo comunque nel 1929 passarono le settimane l'acqua del lago certamente cominciò ad abbassarsi ma ricordate che bisognava abbassarsi di 7 metri per portare in luce la prima nave e quindi dopo alcune settimane è chiaro che molte di questi giornalisti eccetera continuarono andarono via e si cominciò a parlare di un fallimento di questa grande operazione fatta dagli italiani addirittura si cominciavano a fare vignette con i giornali satirici stranieri dopo 5 mesi quando ormai si pensava che la cosa fosse più una leggenda che altro il 28 marzo del 1929 dal fango uscì fuori la prima nave e queste guardate sono sempre le elettropompe che vedete stanno scaricando sull'esterno in questa società arriva ecco e all'improvviso ecco qui dall'acqua che vedete ancora si vede così nella sponda che intanto si è abbassata compare la prua della prima nave grande notizie cominciano a girare i giornali di tutto il mondo in prima pagina abbattono il ritrovamento della nave di Nemi piantata subito la bandiera italiana guardate sulla prua della prima nave mentre intanto cominciano ad affluire a Nemi personalità arrivano addirittura alcuni monarchi di alcuni stati europei arrivano professori universitari studiose eccetera per assistere alla salita uscita in superficie di questa nave di Nemi che risulta essere spettacolare molti rimangono delusi perché pensiamo veramente di trovare una nave addirittura pensate c'era stata molti rimasti fu persino un'interpellanza parlamentare perché quando si resero conto che era la parte sotto del fasciame della nave eccola qui nella foto tutti questi soldi spesi questo tempo aspettato per trovarsi di fronte a questo ovviamente ci fu proprio Guido Uccelli che intervenne nel Parlamento e disse ma voi pensavate veramente che avremmo trovato una nave con le vele ancora appese è normale che in questo caso noi abbiamo recuperato un manufatto di epoca romana come nessuno ha visto mai con il fasciame di legno le cose così e è una scoperta archeologica senza precedenti e premetto signori noi oggi siamo nel 2021 tuttora le navi di Nemi rimesse in luce all'epoca sia per la modalità della messa in superficie dello scavo sia per il ritrovamento e per la documentazione che ci hanno restituito sono una delle più grandi imprese scoperte archeologiche di tutti i tempi d'accordo? tra l'altro viene fatta una documentazione eccezionale vennero fatte un'infinità di fotografie vennero fatti i disegni vennero fatti interventi di studio paleobotanico dendroconologico cioè alcune delle discipline potremmo dire parallele archeologia di archeo di diciamo di archeometria di trattazione botanica eccetera vennero inventate per l'occasione è chiaro? cioè noi archeologi in parte viviamo ancora di rendita dei grandi studi che vennero fatti in quella circostanza per lo studio dei navi di Remi vennero fatti vennero raccolto un'infinità di documenti e di foto purtroppo tutto questo materiale tutti questi documenti migliaia di fotografie di disegni eccetera vennero custoditi in un museo nella città di Genzano ma questo museo ahimè venne bombardato dagli angolo americani e tutte le fotografie sono andate perdute le foto che vedete in questo incontro di questa serie che vi sto mostrando io sono poche foto sopravvissute perché erano state stampate da alcuni giornali è chiaro ma tutta la documentazione fotografica grafica eccetera purtroppo è andata perduta nei bombardamenti anglo americani all'epoca non era come oggi dove si fa una foto se ne fanno infinite copie poi va su internet faceva un archivio non era così all'epoca c'erano foto vere immagazzinate in un archivio in un museo fatto apposta quindi qui guardate si vede lo scafo appunto della prima nave quella per intenderci che era lunga 71 metri e larga 20 d'accordo e la scoperta è eccezionale guardate questo personaggio questo uomo che vedete in basso a sinistra vi dà l'idea delle dimensioni vedete il tango è restituita dal fango così e tra l'altro guardate con l'abbassare dell'acqua si vede sono utilizzate le scalmiere della nave il fasciame e tutto il rivestimento fatto in lamine di piombo tenuto da chiodi di bronzo vedete questo è proprio il rivestimento dello scafo sono navi a fondo piatto perché vi ho detto in realtà erano delle chiatte lacustri è chiaro così questa è una delle foto più belle tra quelle rimaste questa è rimasta perché era una foto di un operaio che ce l'aveva a casa quindi non è una stampa da un giornale una foto vera questo fa capire quanto veramente abbiamo perso guardate il livello di conservazione del fasciame incredibile perché è acqua dolce acqua lacustre molte navi trovate in fondo l'acqua del mare il mare distrugge la salzedine il legno legno di quercia e di cipresso in questo caso invece guardate eccezionale incredibile una conservazione veramente straordinaria vedete degli elementi del fasciame del ponte e della grande armatura della nave vedete con tutte le diverse travature lastre e così via il livello di conservazione dopo che si stanno facendo le puliture dal fango eccetera risulta veramente straordinario e soprattutto è il primo vero intento la prima vera possibilità di studiare la carpenteria romana studiare proprio il sistema di incastro l'innesto il tipo di chiodi il tipo di fasciame la lavorazione del legno uno studio veramente eccezionale di questa nave che è praticamente del 35 dopo Cristo vi rendete conto ecco ancora guardate questa tutta la serie degli elementi di legno per il montaggio vedete gli operai che devono camminare su queste palanche di legno messe sopra per evitare di calpestare direttamente ancora guardate per dire c'era una certa cura un certo intento di conservazione la gente che veniva vedeva la nave da fuori e gli stessi sopra e camminando su queste palanche di legno ecco guardate questo è indicativo della curiosità che la prima nave desta migliaia e migliaia di persone hanno visitato la prima nave non solo capi di Stato ma anche gente comune che andava lì all'epoca certamente non era come oggi dove c'erano mezzi pubblici che portavano fino lì in un attimo era più complesso oppure guardate che enorme afflusso addirittura in una circostanza è avvenuto un caso che c'era talmente tanta gente che le palanche di legno vedete intorno hanno cominciato a soprattutto si sono ribaltate molta gente per salvarsi è saltata sulla nave e quindi diverse decine di persone sono saltate sopra alla parte del legname della nave che ha resistito non si è danneggiato quindi ulteriore prova di come fossero costruite bene queste operazioni fatto sa che anche se la cosa in Italia viene criticata per la grande spesa che comporta a livello internazionale invece il plauso è veramente unanime e tant'è che il governo decide di andare avanti e mentre si sta provvedendo a consolidare la nave è con lì che si decide di portare in luce anche la seconda nave le tre elettropompe quindi vengono rimangono ancora in funzione e nel 1931 quindi due anni dopo si riesce ad abbassarsi ancora di più l'acqua del lago e quindi complessivamente viene abbassandosi praticamente considerate di 12 metri complessivamente e esce in superficie anche la seconda grande nave eccola qui una nave gigantesca enorme è lunga 75 metri e larga 30 metri una chiatta ancora più grande non solo si riscopre che questa seconda nave seppure aveva la forma allungata aveva una grande piattaforma una piattaforma che la rendeva di forma rettangolare per consentirvi al di sopra la costruzione di un edificio verproprio una struttura gigantesca bisogna musealizzare queste navi ed ecco allora come si fa a portarle al coperto si decide di progettare due diciamo imbragature di metallo da realizzare sotto la nave creare dei binari per spostare tutte e due le navi in una parte della sponda diciamo accanto del lago e costruire intorno alle navi appunto un museo museo per cui viene diciamo chiamato Pierluigi Nervi che all'epoca era un po' il bate del cemento armato ma che in un momento era stato chiamato per progettare pensate gli hangar degli idrovolanti e realizza appunto un enorme padiglione veramente un hangar in cui trovare posto queste navi e sarebbe appunto il grande museo delle navi romane di Nemi ecco qui guardate si vede questa specie di imbragatura così e sopra guardate lo scafo della nave poggiata qui si vede molto bene la parte sotto della chiglia piatta tutta quanta foderata da queste lastre lamine di piombo e appunto con questi chiodini di bronzo che la assicuravano e qui si vede il binario con cui la nave deve essere portata all'interno del museo questa è una ricostruzione fatta adesso con la computer grafica di quello che era appunto l'aspetto la nave minore è quella che vedete in secondo piano con solo questo padiglione allungato la nave maggiore quella che vedete invece in primo piano con questa piattaforma larga dove c'erano comunque dei reni che servivano per far muovere la nave sul lago e vedete sopra c'era quello che probabilmente era veramente un padiglione delle feste dell'imperatore Calicola una sorta di edificio poi diventato in marmo decorato di statue foderato in marmo con un tetto fatto di tegole di bronzo dorato con decorazioni fatte appunto da sculture statue transenne in bronzo decorate da erme parti in argento settori con queste decorazioni fatte appunto da da tesse di lupo tesse di leone e così via questo è un po' l'aspetto di queste imbarcazioni che a quanto pare in occasione di certe manifestazioni cerimonie feste si muovevano appunto nell'area del lago addirittura mi ha fatto una scoperta importantissima sono trovate le ancore e queste ancore ecco la qui questa è una delle ancore originali fatte in legno con le marre cioè con le due parti laterali che hanno queste incappucciature fatte invece in ferro e il timone sopra fatto invece in piombo questa è l'ancora originale di una delle navi perché dico una scoperta importantissima perché le attuali ancore come le concepiamo sono fatte così venivano ritenute un'invenzione inglese si chiamano modello ammiragliato perché si diceva che erano ancore progettate e decretate con un'apposita diciamo legge dell'ammiragliato inglese nella metà del 1800 qui siamo intanto in odore di guerra perché sta per scoppiare la seconda guerra mondiale aver trovato queste ancore fanno vedere al fascismo che le ancore che vengono utilizzate in tutto il mondo non sono inglesi ma sono romane ecco allora che invece di chiamarle ancore dell'ammiragliato a questo momento si chiamano ancora romana vedete perché sono esattamente come erano fatte appunto in epoca in quel momento lì le ancore moderne che però non sono fatte di legno ma sono fatte di ferro qui appunto vedete una delle ancore originali della nave grande e questa è una cartolina dell'epoca che rappresenta il museo che si sta costruendo vedete ancora c'è l'intelagliatura di ciò metà armato ancora mancano le pareti eccetera con la nave dentro il museo era un grande veramente hangar per contenere dentro la nave e qui si vede la nave allestita dentro il museo poi intorno addirittura a due piani c'è una parte sotto dove vedendo la parte sotto del museo si vede la parte della nave e lo scafo dal basso mentre se dentro su queste balconate che vede intorno si vedeva il ponte della nave e nasce tra l'altro all'epoca una controversia perché in realtà considerate che molto del materiale della nave era stato già portato al museo nazionale romano da Elisa Oborghi quindi nasce un litigio tra il museo di Roma dove ci sono tutti i pezzi di bronzo della nave e il museo di Nemi dove ci sta in realtà la nave stessa questa controversia è una controversia che dura alcuni anni poi si interrompe perché c'è la guerra c'è la seconda guerra mondiale le navi di Nemi nonostante la collocazione scomoda perché sono a Nemi che tra l'altro non è normalmente raggiungibile dai turisti eccetera nonostante questo sono visitate da moltissime persone soprattutto da ingegneri che scoprano delle scoperte interessantissime viene scoperto un berricello si capisce come erano fatte le pompe di sentina si addirittura si scoprono degli antenati potremmo definirli dei cuscinetti a sfera vengono fatte delle scoperte eccezionali a livello proprio tecnico meccanico su quello che era l'antica carpenteria navale romana e diventano famose in tutto il mondo il libro di Guido Uccelli del ritrovamento dello studio di Renai viene tradotto in varie lingue appunto per consentire a tutti gli studiosi di conoscere le caratteristiche della carpenteria navale che fino hanno fatto le navi una terribile notte tra il 31 maggio e il primo giugno del 1944 un grande incendio scoppia nel museo delle navi e la mattina dopo le navi erano totalmente distrutte questa è un'altra foto della grande navi della nave scusate piccola all'interno del museo questa è una visita guardate che le autorità del fascismo con Benito Mussolini in primo piano fa vedete al museo inaugurato ovviamente è un grande grande prestigio un grande orgoglio del fascismo il recupero l'esposizione il ristauro la presentazione di queste spettacolari imbarcazioni purtroppo ripeto la notte tra il 31 maggio e il primo giugno del 1944 un incendio le distrugge totalmente nasce una contesa di chi è la colpa? la colpa è dei soldati tedeschi in ritirata e tuttora se voi leggete in giro si dice i soldati tedeschi in ritirata hanno distrutto le navi di Nemi non si capisce per quale ragione un gruppo di soldati tedeschi dove si è messo a perdere tempo mentre c'erano gli americani in salita a arrivare fino a Nemi e dar fuoco alle navi in realtà noi oggi sappiamo con certezza che cosa è accaduto la colpa di tutto questo è stata degli abitanti di Nemi i quali in un momento in cui in quella sorta di vuoto di potere eccetera diciamo l'occupazione tedesca e l'arrivo del governo dell'esercito d'alleato eccetera molti abitanti di Nemi avevano scelto il museo delle navi come ricovero come diciamo alloggio di fortuna e molti di questi abitanti tra l'altro avevano cominciato a vendersi sul mercato nero pezzi delle navi vendendolo appunto a antiquari compiacenti eccetera una notte appunto la notte tra il 31 maggio e il primo giugno alcune persone residenti in loca hanno visto delle luci a girarsi all'interno del museo di persone che appunto vogliono addirittura prendere parti del fasciame e utilizzarlo anche in quel caso appunto in vendita per venderlo evidentemente nell'ambito di questo saccheggio è scoppiato un incendio e questo incendio è stato poi impossibile da domare e ahimè ha devastato distrutto totalmente le navi il risultato è questa foto che vedete qui dove rimane solamente l'intelagliatura che reggeva appunto le due imbarcazioni e due imbarcazioni andate completamente distorte a questo punto è stata una fortuna il fatto che almeno tutti i materiali di bronzo erano ancora nel museo nazionale romano a Roma e quindi non si sono potuti né saccheggiare né andare perduti d'accordo? e quindi oggi si trovano ancora appunto qui a Roma nel museo del museo di Palazzo Massimo di fronte alla stazione d'Ermine forse uno dei danni peggiori parlo d'archeologo in questo caso più della perdita della nave è la perdita di tutta la documentazione cioè tutte le fotografie i disegni i materiali gli studi che sono stati fatti e che è avvenuto invece in un momento diverso proprio per il bombardamento del museo di Genzano è stata una straordinaria scoperta archeologica un'impresa di recupero senza precedenti che veramente pensate tuttora viene studiata in molte università straniere come un'impresa senza precedenti sia dal punto di vista archeologico che ingegneristico che idraulico ma purtroppo in me oggi di tutto questo rimangono solamente poche foto rubate in giro c'è una speranza una speranza questo è un'immagine una carta del lago di Nemi dove sono state trovate le due navi le due navi sono state trovate qua guardate dove vedete questi due triangolini gialli io ho detto però che già dal medioevo venivano ritrovati i pezzi e i pezzi non venivano trovati solamente lì dove vedete questi due triangolini gialli perché parti frammenti sono stati trovati anche qua sul lato opposto del lago qua giù tanto che già da quando si fecero i lavori negli anni 30 si parlò di una terza nave che doveva trovarsi però sul lato opposto del lago terza nave però che in base alle diciamo alle misure di scandaglio tenete conto che queste queste questa qui la profondità è molto più alta è molto maggiore e quindi la nave dovrebbe trovarsi se c'è a una profondità che si aggira intorno ai 30 35 metri quindi una profondità certamente molto superiore che però oggi grazie ai nostri attuali sistemi sarebbero in grado di poter essere studiata si sta molto parlando di questo recentemente sono fatte anche delle indagini qualcuno dice di averla trovata qualcuno dice di averla quantomeno individuata qualcun altro invece dice che questa terza nave non è mai esistita è un contenzioso che come vedete nel medioevo era fatto in un certo modo oggi è un contenzioso che ancora va avanti seppur in forma diversa che cosa ci rimane oggi in realtà di queste navi i materiali bronzi che tutti quanti potete vedere in quella parte del museo nazionale romano alias museo delle terme che però è esposta negli ambienti del secondo piano di Palazzo Massimo grazie dell'attenzione